Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo del titolo che ci ha accompagnato lungo la mezzanotte del Capodanno 2020 e che è stato proprio l'acquisto di fine anno scorso. Vi parlerò di Micro Macro, gioco di Johannes Sieg per 1 o 4 giocatori ma tecnicamente se state intorno al tavolo potreste essere anche di più, della durata variabile a seconda della missione che deciderete di intraprendere, edito da MS Edizioni. Vediamo subito! Prima di iniziare a giocare dovremo selezionare il caso. Ogni caso può avere una difficoltà variabile da 1 a 5 stelle e un diverso numero di carte da cui è composto. Una volta fatto bisognerà leggere insieme l'introduzione al caso sul retro della prima carta. Solitamente ci dirà chi è la vittima e dove possiamo trovarla all'interno della città. Dopodiché dovremo risolvere le varie richieste. Nel caso introduttivo dovremo trovare un fantomatico pub, un chiosco degli hot dog, scoprire cosa è successo durante il tragitto come è stato rubato il cappello e infine dove sono seduti i colpevoli con il bottino. Per rispondere a queste domande dovremo quindi guardare molto bene gli oggetti, molto bene gli ambienti, ma soprattutto le persone come si sono mosse. Per migliorare la visibilità abbiamo una pratica lente, ma dobbiamo soprattutto fare attenzione al fatto che su questa mappa che sembra immobile in realtà le persone si stanno muovendo. Possiamo ad esempio notare che questa mamma distratta stava chiacchierando con un'amica, mentre si allontana il bambino non è più nella carrozzina, la mamma scopre che il bambino è scomparso, ma tornando indietro possiamo scoprire ad esempio che il bambino sta attraversando la strada, che si muove in questo spazio, che è arrivato in questo incrocio e così via. Tenendo conto di ciò, se riusciremo a risolvere correttamente tutte le richieste della nostra missione, saremo dichiarati i vincitori. Come avete visto quello che dovete mettere in campo è sicuramente il colpo d'occhio ed è il motivo per cui nell'introduzione vi ho detto che sulla scatola è riportato uno o quattro giocatori, ma tecnicamente se riuscite a farvi largo, insomma se riuscite a non farvi ombra l'uno con l'altro, potreste giocare anche in più giocatori. L'altra cosa che vi ho detto nell'introduzione è che la durata è variabile a seconda dei casi che sceglierete. Vi dico che il caso introduttivo e i casi con una o due stelline potreste risolverli anche sotto i cinque minuti. Diciamo che se trovate il punto indicato dalla piantina, tutta l'azione si svolge più o meno intorno ad esso. La cosa invece non è assolutamente così con i casi da quattro o cinque stelline. In questa occasione infatti potreste dover inseguire i personaggi lungo tutta la piantina, che come vedete è bella grossa. Ci saranno personaggi che cambiano mezzi di trasporto, salgono e scendo magari da automobili, salgono su cavalli, insomma si muovono tanto, possono anche usare la metropolitana e quindi entrare in un punto e uscire nell'altro della piantina. Potrebbero cambiare aspetto, potrebbero travestirsi, potrebbero acquistare qualcosa e portarselo dietro. In più, se sono personaggi magari che si stanno muovendo in coppia e si separano, potreste dover seguirli sia dopo la separazione ma anche prima, quando c'è stato il ricongiungimento, perché tutto quanto potrebbe darvi indizi per la risoluzione dei casi. Arrivo subito alla parte della longevità che so che me lo state per chiedere. Ci sono all'interno della scatola 16 casi già predefiniti, che potrete seguire come avete visto sfogliando le carte che vi guideranno passo passo nella risoluzione, ma quando sarete più o meno abili nel gioco, vi posso dire noi lo siamo stati intorno al quinto o sesto caso, potreste decidere di giocare in modalità difficile, mettiamola così, ovvero sia, senza guardare le carte, prendete l'introduzione del caso e cercate da soli di risalire all'origine del caso, proprio risolverlo come se foste dei veri e propri investigatori. Oltre a questi, comunque, il regolamento vi butta lì altri 4 casi da risolvere, 4 matasse da dipanare, ed oltre a questi ne potreste trovare altri, ad esempio, quello che vi ho fatto vedere del bambino che scappa dalla mamma, è un qualcosa che succede all'interno della città, e ve l'ho fatto vedere dal centro, diciamo, dell'azione, c'è un qualcosa che succede prima e un qualcosa che succede dopo. Sta a voi scoprire tutto quello che si succede dentro a Micro Macro. Micro Macro, quindi, è un ottimo passatempo, lo tenete lì vicino al tavolo. Prima di andare a dormire alla sera, aprite una bustina e vi risolvete un caso, se siete stati troppo bravi, magari risolvete anche il secondo, magari anche il terzo, poi la sera dopo ne risolvete un altro, insomma, ve lo gustate man mano nei tempi liberi. Sono casi molto semplici, è intrigante questa cosa della mappa che ha un tempo che si muove, e davvero vi vola via i minuti senza rendervene conto. Vivrete la città. E dopo un po' vi dico anche che conoscerete la città, comincerebbe a dire, ah, ma io questo l'ho già visto, magari personaggi che compaiono in uno dei casi successivi, magari vi sono capitate negli occhi prima, dite, ah, sì, ma io questo l'avevo visto passare vicino al parco, ah, ma questo forse è così. Quindi è come se conoscesse anche gli abitanti Micro Macro, insomma, passerete del buon tempo con i vostri compagni reali e con i compagni disegnati. Vi segnalo infine che prima della sigla finale lascerò tre secondi di pausa per decidere se guardare con me la risoluzione del caso che si presenta direttamente sulla scatola del gioco. C'è un caso da risolvere anche qua. Lo faccio per chi è curioso di vedere come si risolve effettivamente un caso, mentre per chi non vuole spoiler neanche di questo tipo possiamo salutarci qua con un bel ciao e alla prossima. La scatola ci chiede di scoprire chi ha ucciso il venditore di hamburger. Innanzitutto cerchiamo il venditore. Allora, in questo caso il chioschetto è sicuramente quello degli hamburger, vedendoli in segna, e il venditore è quest'uomo con i baffetti. Esce dal retro del chiosco e vediamo che dietro all'angolo c'è una persona con le orecchie da coniglio e una maschera che lo sta spiando. Continuiamo a seguirlo. Si muove per la strada, arriva a bordo strada e l'altro uomino nascosto e sempre dietro all'ampione che lo spia. Lo seguiamo, lo stiamo perdendo un attimo di vista ma ricompare qua. Alle sue spalle sempre la persona un po' sospetta. Continuiamo a seguire, seguendo l'onda. Ecco, lo sta attraversando la strada ma attenzione, l'uomo alle sue spalle ha adesso tirato fuori un manganello. Lo troviamo ora sdraiato, morto nel parco. C'è una mazza da baseball a fianco a sé e vediamo che prima aveva un borsellino che adesso non ha più. Se continuiamo a guardare sulla scatola scopriremo che l'assalitore se ne sta andando bel bello con il suo bottino fuori dalla scatola. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi a Telegram per rimanere aggiornati su tutto in tempo reale. Su Instagram se volete vedere qualche anticipazione qualche dietro le quinte insomma un qualcosa di leggermente diverso lasciatemi pure un commento qua sotto e vi dico ciao ne!